io ti renderò libera ha scritto belen sotto una fotografia in cui compare lei con la piccola luna marie postata sul suo profilo instagram seguito da più di 10 milioni di follower questo accadeva nella giornata di ieri ma oggi di questo posto non vi è più traccia il motivo la showgirl secondo le voci che circolano sul web non avrebbe gradito il commento di antonino che a questo punto può essere definito il suo ex compagno la pubblicità dei ringo ha scritto lo spezzino mantenendo un'aurea enigmatica visto che non è ben chiaro a cosa si riferisca sta di fatto che la showgirl argentina ha preferito cancellare la foto con relativo commento ma non è tutto poco dopo infatti belen ha deciso di postare alcuni scatti che ritraggono la piccola di appena cinque mesi con un commento molto simile a quello del post cancellato libera scritta la rodriguez a lettere maiuscole insomma pare proprio che il motivo di questo balletto di fotografie sia legato alla volontà della bellissima argentina di far sparire dal suo profilo instagram ogni traccia di antonino se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciate like di supporto la norma davvero la prepazione la�화 la 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 Grazie a tutti